Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come in solito sono tre gli argomenti che affronteremo in questo nostro incontro. In primo piano l'educazione, l'emotività, l'affettività e la sessualità. C'è stato un sì a una proposta di legge per il Parlamento e poi si parla degli eventi calamitosi, è stata allargata la partea per la richiesta dei danni, c'è stato un sì unanime, un massimo di 3.000 euro a sostegno dei nuclei familiari e poi sempre sullo stesso argomento è stato presentato il docufilm Casca il cielo, interamente finanziato dal Consiglio regionale della Toscana. Il primo argomento quindi ci porta a parlare di scuola e il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge al Parlamento recante di esposizioni per l'introduzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità nell'abito dell'insegnamento trasversale all'educazione civica. La proposta di legge presentata su iniziativa della Commissione Cultura è stata approvata con il voto favorevole del Partito Democratico e della Viva e Movimento 5 Stelle, il voto contrario di Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia. In Parlamento ci sono almeno 3 o 4 disegni di legge sull'introduzione dell'educazione all'affettività e la sessualità nelle scuole, sono tutti arenati e la discussione si è fermata. Il Governo ha disposto anche in seguito agli eventi tragici che sono avvenuti nel nostro Paese di violenza sulle donne e non solo di abusi di vario tipo ha deciso di investire molte risorse in un progetto occasionale. Tra l'altro abbiamo preso un progetto che è affidato alle scuole che consente un'adesione volontaria ai ragazzi. Noi crediamo che non sia un messaggio educativo, se un tema è davvero priorità deve stare là dove stanno le cose fondamentali per la vita dei cittadini, nelle leggi dello Stato. Per questo dal Consiglio della Toscana è partita, è stata approvata ieri una proposta di legge al Parlamento che è un segnale di attenzione e che propone una modifica molto semplice e pragmatica della legge 92 che istituisce l'ora di educazione civica che nel disegno originario di molti che hanno fatto proposte di legge si chiamava educazione alla cittadinanza. Ecco, di inserire tra gli argomenti di quell'ora di lezione anche questi temi, i temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità. Per primo ho portato nel Consiglio regionale della Toscana una mozione due anni fa che andava in questa direzione. È evidente che la crescita di una persona avviene sotto il punto di vista anche umano, relazionale e soprattutto affettivo. E come tale è bene che la scuola sia il luogo dove si affronta e dove ci si confronta rispetto alla crescita emozionale, affettiva, anche sessuale e soprattutto dove i ragazzi e le ragazze possano confrontarsi con personale competente nella conoscenza. Dalla conoscenza nasce l'approfondimento di temi molto importanti e come tale credo che tutta la dimensione delle relazioni, dell'affettività, del piacere e tutta la dimensione umana della persona abbia un valore altissimo al pari di quello nozionistico o quello culturale. Questa legge entra a gamba tesa invece dal nostro punto di vista su una sfera che è una che ricade per lo più in quelle che sono anche l'ambito familiare. Io rivendico come genitore la mia libertà di educare mio figlio nel modo che ritengo opportuno, sensibilizzarlo al rispetto di quelli che sono principi e diritti fondamentali della persona. Rifiuto che questo possa farlo la scuola, anche perché se l'educazione sessuale è quella che ad esempio è stata propinata all'interno di un incontro dal comune di Pontassieve dove si invitano gli adolescenti addirittura ad essere sensibilizzati sugli scambi di coppia, voi capite che siamo vicini a una strumentalizzazione su un tema che al contrario non dovrebbe vedere strumentalizzazioni. Oggi siamo di fronte a modelli culturali che ritengo profondamente sbagliati sotto certi punti di vista e addirittura parlare di una società fluida dove i ragazzi di 11, 12, 13, 14 anni possano come dire alzarsi la mattina sentirsi uomo donna e questo è ritenuto normale. Io non credo che sia normale, noi dobbiamo recuperare un patrimonio di valori e dobbiamo farlo perché altrimenti questa società rischia delle profonde derive. Direi che della maggior parte dei ragazzi di oggi è venuto fuori ieri anche un importante report di Save the Children che parla della sessualità fra gli adolescenti e da questa indagine risulta che il 52% delle ragazze abbia già subito violenza nella prima fase di questo percorso diciamo sessuale e affettivo. Io credo che non si possano ignorare questi segnali della società e non si può soprattutto rimanere fermi su delle posizioni che sappiamo già non portano a una soluzione. Se noi seguiamo le regole e rispettiamo tutti nelle loro diversità sia culturali, fisiche, religiose, di tutti i tipi, le cose possono andare meglio. Ora in questo momento presi da quanto è successo ultimamente a Palermo e in varie altre parti d'Italia c'è stata questa spinta a parlarne un po' di più per il discorso della violenza contro le donne. Però non dobbiamo aver fretta proprio perché come vi ho detto la materia è molto delicata e farla insegnare agli insegnanti di educazione civica che spesso sono dei tecnici non ci sembra opportuno. Quindi io spero che vada avanti il discorso di educazione alle relazioni che ha proposto il Ministro, ha anche stanziato 15 milioni di euro, vada avanti quello e possa portare a dei progetti poi da sostenere nelle varie scuole. Però lui l'ha fatto solo per le scuole superiori. Fino a un massimo di 3.000 euro per ogni nucleo familiare, anche per i beni mobili sarà il contributo straordinario forfettario a sostegno delle famiglie che hanno subito danni a causa degli avversi eventi meteorologici di novembre 2023. Il contributo è finalizzato a ripristino oppure alla sostituzione di beni danneggiati. L'atto che ha ricevuto il sì unanime dall'Aula con 32 voti favorevoli è stato illustrato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico del Partito Democratico, la consigliera Ilaria Bugetti. Questa legge è molto attesa peraltro dopo gli eventi eccezionali di novembre che hanno compito molte province della regione toscana, va ad ampliare la tipologia di beni che sono ristorabili alle famiglie che hanno fatto la denuncia dei danni. Come ricordo la denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000, qualcosa meno, ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni immobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma non si va a fare una varia azione alla legge che avevamo approvato a dicembre, ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. Il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state convolte dall'alluvione e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti e le risposte sono in primis che sicuramente la compilazione delle domande, quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento è un iter che ancora oggi è complicato e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare più possibile la richiesta di risarcimento anche con i fondi che ulteriormente la regione metterà a disposizione e con i fondi del governo. Il secondo punto è quello di smetterla, di dire che il governo centrale non manderà risorse, che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini, quindi dobbiamo tranquillizzarli affinché la regione toscana farà la propria parte, prenderà in considerazione tutte le domande che arriveranno e per tutti i cittadini e per tutte le imprese che si rivolgeranno a tutte le istituzioni il mondo della politica troverà per loro uno spazio e troverà per loro le modalità per risarcire nelle base delle disponibilità che sono di competenza dei vari enti quelli che sono i danni che hanno subito da quel bruttissimo alluvione. C'è da interrogarsi se la regione sia stata in grado anziché di fare polemica continua col governo di intercettare tutte le sollecitazioni che venivano e vengono dai territori a partire dalle famiglie per finire alle imprese. Cerchiamo in tutti i modi di mettersi a disposizione e di consentire alle famiglie di riprendere una vita normale ricomprando i beni di prima necessità che sono andati distrutti con l'alluvione. Complimenti alla Presidente della Commissione, alla Commissione, complimenti alla Giunta. Questa proposta di legge trovo sia una proposta di legge che va incontro alla necessità di tantissimi cittadini, largando il Platon, dando la possibilità di ricevere contributi. Speriamo ci sia la possibilità di riaprire addirittura i termini affinché tutte le risorse che sono state messe a disposizione possono essere erogate. E quindi la paura quando la notte del 2 novembre la Piana Fiorentina viene travolta da un'ondata di fango. Il dramma è la perdita di persone, oggetti, memoria, decenni di lavoro e poi la difficile fase della ripartenza. Raccontarli è una docufilm, casca il cielo, dei registri Lorenzo Garzella e Ron Johnson, interamente finanziato dal Consiglio regionale della Toscana. Immagini e testimonianze, peraltro il docufilm in questi giorni viene proprio trasmesso dalla nostra emittente, TVR e Tele Italia 7 Gold. Per non dimenticare, noi abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché quando accadono eventi anche drammatici come quelli che sono accaduti in Toscana, non qualche mese fa, c'è necessità di tenere alta l'attenzione. E per farlo bisogna che ci siano prove concrete, lo vedrete tra poco, dal senso di quanta violenza, di quanto il territorio abbia subito la violenza dell'acqua in quelle ore. Permettetemi di ringraziare Lorenzo Garzella e Ron Johnson. Hanno prodotto un docufilm che dovremmo portare nelle scuole, dovremmo portare tra le istituzioni, perché tra le ragazze e i ragazzi continua a esserci quel senso di vicinanza alle popolazioni colpite che le ha viste in prima linea durante la fase dei soccorsi, durante la fase più difficile, emergenziale. E alle istituzioni dire che non si devono mai voltare dall'altra parte. Ognuna di noi deve fare tutto quello che può. Noi come Regione abbiamo già stanziato diverse risorse, lo stesso deve fare il Governo rapidamente. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché le aziende possano ripartire con la propria attività e le famiglie possano tornare ad avere il sorriso, quel sorriso che hanno perso in quei giorni terribili dell'alluvione. Ci hanno ispirato tre azioni principali. La prima è stata quella di ascoltare, quindi andare nei posti, in questi comuni che forse non sono così popolari come altre città della Toscana e ascoltare la storia delle persone che sono state coinvolte in prima persona. La seconda cosa è stata quella di guardare e quindi con loro fare dei giri a dicembre delle loro case o delle loro aziende per vedere a due mesi di distanza cosa c'era rimasto. E la terza cosa che forse è la più importante è stata quella di raccogliere anche i video che avevano girato in quella notte. Quindi abbiamo fatto un lungo lavoro sia di richiesta e anche un po' di restauro dei video fatti col telefonino, vedrete delle sequenze che a volte sono un po' spappolate rispetto al grande schermo, che però credo che siano preziose perché spesso poi nella rete ci sono tante cose ma poi vanno disperse e battele a ritrovare, mentre magari il fatto di raccoglierle tutte in una piccola storia gli può dare il senso finale che è quello di conservare per un po' la memoria di questo fatto, che anche questo rischia di essere inghiottito fra le mille calamità del mondo e magari parlarne per un altro po'. Quello che rimane è una sensazione di intanto una comunità che quando ci sono queste tragedie poi si unisce, paradossalmente è un momento in cui ci si riscopre, uniti e ci si riscopre anche fragili di fronte a una natura che poi abbiamo noi stessi umani, abbiamo in qualche modo fatto sì che ci si rivoltasse contro. Questa sensazione sia di fragilità ma anche di unità è quello che mi porto dietro come eredità da questa esperienza e penso che ci debba fare un pochino riflettere tutti insomma. Oggi la situazione è in leggero miglioramento, sicuramente la fase di emergenza non è terminata perché come lo diciamo sempre fino a quando tutte le famiglie di campi non saranno rientrate nelle proprie abitazioni, per noi non sarà terminata la fase di emergenza e per quanto riguarda rimborsi sono in avvio, in questo momento stanno arrivando le email a tutti i cittadini che hanno compilato il modello B1 per avere il primo ristoro da 3.000 euro da parte della regione toscana. Questo naturalmente è un primo rimborso, un primo sostegno ma siamo estremamente preoccupati ancora per il ristoro successivo. Pensate che siamo ormai tre mesi e ancora non è stato nominato il commissario per la ricostruzione e questo naturalmente ci preoccupa e vedendo ciò che è accaduto in Emilia Romagna insomma siamo estremamente preoccupati sul futuro che ci attende. E con la dichiarazione del sindaco di Campi Visenti si conclude anche un appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni e gli aggiornamenti il sito internet www.inconsiglio.it. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra sette giorni quando saremo ancora insieme Dentro il Consiglio. www.inconsiglio.it. минимone. www.inconsiglio.it. www.inconsiglio.it.